Il tratto peculiare del sonetto Lo vostro bel saluto e il gentil sguardo di Guinizelli è rappresentato sicuramente dalla scelta del poeta di presentare l'amore in termini fortemente negativi. Il momento dell'innamoramento è presentato con termini che si riferiscono al campo semantico della sofferenza e del dolore. Il poeta viene come annullato, esce frastornato da questa esperienza ed è quasi annullato fino al punto addirittura di conservare di sé soltanto l'aspetto esteriore, quindi un annullamento interiore, un annullamento di quelle che sono le facoltà del poeta che sicuramente stride fortemente con quell'idea dell'amore che va a braccetto con il gentilcore o comunque dell'amore che è legato alla vertute della donna che dona la salute all'uomo. L'amore dona la salvezza all'uomo, questo è nell'idea degli stilnovisti, ma questo sonetto di cui ci occupiamo è sicuramente un testo particolare. Più spesso invece, come caratteristica di Cavalcanti, di Guido Cavalcanti, l'altro grande poeta stilnovista, si ravvisa l'idea che l'amore sia un'esperienza addirittura distruttiva che rende l'uomo incapace di reagire, di esprimere e che quindi ha un effetto davvero negativo sull'uomo. Non è questo di solito il tono di Guinizelli, a maggior ragione ci accingiamo alla lettura di un testo che per questo risulta particolare. Lo vostro bel saluto e il gentile sguardo che fate quando vi incontro mancide. Questi primi due versi orientano in modo inequivocabile l'attenzione e le attese del lettore. Il motivo del saluto e il motivo dello sguardo che è gentile riconducono al codice stilnovista, ma stride fortemente la presenza dell'effetto di questo saluto e di questo sguardo, che è la morte del poeta, in senso ovviamente metaforico. Ma tant'è anche nel terzo verso troviamo un verbo forte, violento, perché dice il poeta amor mi assale. Anzi l'amore non ha nessun riguardo e non si pone il problema se la sua azione coincida con un torto oppure con un favore, un peccato, quindi qualcosa di negativo, oppure mercede nel senso che sia una cosa gradita. Poiché, il che è causale all'inizio del quinto verso, per mezzo lo cor me lanciò un dardo. Il soggetto è sempre l'amore che quindi è come un guerriero visto che va all'assalto del poeta e che cosa fa? L'amore fa un gesto che da, almeno da Ovidio in poi, dalle metamorfosi di Ovidio, è classico per quanto riguarda la poesia d'amore o le situazioni d'amore. Amore scaglia le frecce, un dardo contro cui non si può assolutamente opporre alcunché. E allora questo dardo viene lanciato in mezzo al cuore e lo passa da parte a parte, oltre in parte, e lo taglia e divide. Due verbi che sono due sinonimi ma che in realtà stanno a indicare la stessa azione, che è un'azione di forza, di violenza, taglia e divide il cuore. E l'effetto è subito detto. Il poeta dichiara non posso parlare, quindi l'incapacità di esprimersi, è il motivo della ineffabilità che già nella poesia siciliana si riscontra, nella poesia di Giacomo Dalentini, l'incapacità di parlare. E perché questa incapacità di dire? Perché dice che, poiché, io ardo nelle pene. Vale a dire si trova in una situazione di sofferenza e viene paragonato questo stato a colui che vede la propria morte. E c'è una similitudine in chiusura di questa quartina. Interessa la rima dardo e ardo per la semplice ragione che quando si dice ardere si pensa ad ardere d'amore, quindi un verbo che ha a che fare con il sentimento. Ma qui invece l'accostamento stride quasi per chi dice io ardo nelle pene. E comunque l'idea è che il dardo provochi una situazione di vicinanza addirittura alla morte. Insomma la situazione che si prospetta è una situazione drammatica e negativa, adonta di quel bel salute gentil sguardo che in altri testi hanno come effetto risvolti positivi. Invece qui la situazione è fortemente negativa. Non c'è, siamo ben lontani dall'idea della donna che dona la salute, ovvero il saluto e la salvezza all'uomo. Il soggetto del verso 9 è lo sguardo, o meglio l'amore. L'amore attraverso gli occhi passa come fa il trono, vale a dire il fulmine, che passa attraverso la finestra della torre e spezza e fende, cioè spezza e distrugge, colpisce tutto ciò che dentro trova. Un'intera terzina è articolata e incentrata sulla descrizione degli effetti dell'amore e sono effetti che coinvolgono la parte interiore, la parte dell'animo del poeta. Un fulmine che attraverso la finestra della torre entri all'interno dell'edificio e distrugga tutto ciò che trovi, viene paragonato all'effetto dello sguardo della donna sull'uomo ed è un effetto fortemente negativo, distruttivo addirittura. Tant'è vero che il poeta al verso 12 dice, rimagno come statua d'ottone, cioè resto, rimango, come una statua d'ottone, cioè vuota, una statua dove non ricorrano né vita né spirito se non resta, si conserva, la figura di uomo. Ecco che queste due terzine completano, arricchiscono, ribadiscono quello che viene descritto in termini negativi nelle prime due quartine. Ma forse vale la pena ancora soffermarsi su alcune relazioni interne, per esempio al verso 8 il poeta dice come colui che vede la propria morte e al verso 13 invece siamo ad uno stadio successivo perché dice una statua d'ottone dove vita né spirito non ricorre. Prima c'è la percezione della morte, poi ci sono gli effetti appunto legati allo stato in cui versa. Il lessico è fortemente negativo, abbiamo l'ancide del verso 2, l'assale del verso 3, taglie e divide che è una copia sinonimica come anche spezza e fende al verso 11 e abbiamo le similitudini che vengono impiegate proprio perché sia chiaro il concetto espresso al verso 8, al verso 9 in riferimento al fulmine, al verso 12 in riferimento alla statua d'ottone. La statua è inanimata e quindi quello che ci dice Guinizelli in questo testo è che l'amore annulla quelle che sono le percezioni, la sensibilità dell'uomo che è ridotto soltanto ad un involucro esterno. Grazie a tutti.